una sfida con le digital card le digital card dei gormiti funzionano sul tablet e sul tuo smartphone scarica l'applicazione dei gormiti e le tue digital card prendono vita in ogni bustina una super card per far vivere il tuo gormita tridimensionale e la realtà aumentata e una cartoon card per scaricare gli episodi del cartone animato digital card dei gormiti la nuova era delle carte collezionabili